Nella tarda notte di venerdì è avvenuto un furto in corso Vittorio Emanuele ai danni di un minimarket di proprietà di un nigeriano. I malviventi hanno spaccato la vetrata del negozio portandosi via il registratore di cassa con circa 200 euro e alcuni prodotti. Ad accorgersi dell'accaduto vedendo il vetro in frantumi è stata una guardia giurata che prestava servizio in centro storico. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti e successivamente la polizia scientifica per i rilievi. Adesso sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.